Questa partita è una specie di aver esorcizzato la gara di andata in cui ti eri fatta male. Sì, diciamo che è stato un esorcizzare un periodo, all'andata da questa partita poi si è creato un grande momento di down, quindi vincere così bene ci dà, secondo me, tanta carica e tanta fiducia e ci fa stare anche un attimo più rilassati, secondo me tranquille perché per noi era veramente dura, secondo me più a livello mentale questa partita che non di preparazione in sé, quindi siamo state molto brave, abbiamo giocato davvero a squadra e sono davvero contenta. Adesso c'è qualche giorno, si salta un turno perché domenica c'è la FNF di Coppa Italia, poi cominciate però a 100 all'ora subito giocando ogni tre giorni. Sì, adesso questo momento di riposo secondo me ci fa bene perché possiamo lavorare tecnicamente, perché adesso giocando così tanto non abbiamo mai tempo per gli allenamenti, ci alleniamo poco, ci alleniamo in modo intenso, però abbiamo troppe partite ravvicinate, quindi sicuramente guarderemo anche aspetti tecnici da migliorare e ci servirà.